Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo in miglioramento sulla Liguria. Rimonterà infatti l'alta pressione e ancora un po' di residuo a variabilità, specialmente nella prima parte del giorno. Vediamo ora nel dettaglio la provincia d'Imperia, cieli sereni o parzialmente nuvolosi nella giornata di lunedì, con temperature in ripresa, punte massime infatti che potranno andare anche oltre i 30 gradi. Anche sulla provincia di Savona splenderà il sole nella giornata di lunedì con temperature massime che sfioreranno i 30-32 gradi. Sulla provincia di Genova cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della giornata di lunedì, anche qui le temperature massime saranno in aumento con punte intorno ai 29-30 gradi. Sul Tigurio il tempo sarà variabile, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, con il basso rischio di conseguenze rimonterà infatti l'alta pressione. Anche sullo spezzino splenderà il sole nella giornata di lunedì con temperature massime che potranno anche sfiorare i 30-31 gradi. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Liguria, salvo per un po' di variabilità sui settori interni del Levante Ligure con qualche possibile occasionale piovasco. Le temperature massime potranno anche sfiorare i 32 gradi, i 20 deboli con Mar Ligure calmo o poco mosso. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.